Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Fuga dal Manicomio, edizione italiana a cura della DV Giochi che io colgo l'occasione per ringraziare di cuore. Grazie ragazzi, è sempre un grandissimo onore e un piacere ovviamente collaborare con voi. Grazie. Fuga dal Manicomio è un escape room in questa scatoletta, divisa in due parti, sono 10 scenari per 10 ore di gioco. E' ovviamente come tutte le escape room un gioco come io vado a definire Legacy, ovvero, tra virgolette, che finita una partita ovviamente non ha rigiocabilità, eccomettiamola così, non può essere rigiocato perché la storia è sempre quella. Per quanto questo è bellino perché anche dei bivi narrativi sulle carte che ti ricano va in un posto rispetto a che un altro, però al finale è sempre lo stesso. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Come dicevo, Fuga dal Manicomio in questa sua edizione italiana a cura della DV Giochi dovrebbe uscire al prossimo Modena Play che io veramente in cuor mio come tutti spero che ci sarà anche ora, soprattutto col problema coronavirus che già lo hanno rimandato di un paio di mesi, quindi speriamo di vederlo insomma perché è una festa molto importante, è una fiera veramente molto importante a livello italiano. Come vi dicevo, in questo pacchettino, tanta roba vi faccio vedere, ci sono due moduletti che sono praticamente due avventure, parte 1 e parte 2, sono 10 avventure in tutto per la durata di un'oretta ciascuna, poi ovviamente non c'è timer, non c'è tempo, potete starci anche tre ore per risolvere un caso, però ovviamente andrete a scalare i punti a seconda del tempo che ci siete stati oltre all'ora e ovviamente anche per le risposte che avete dato sbagliate. È un gioco di carte, è un gioco di carte narrativo dove sulla carta c'è scritto cosa devi fare, ad esempio cerca una combinazione, oppure perché no anche, tanto ora ve lo faccio vedere poi, apri una busta perché poi nel gioco ci sono anche delle buste da aprire. E come tutte le escape room dovete trovare la soluzione scappare perché voi siete un tizio rinchiuso dentro un manicomio e dovete capire perché chi vi ci ha messo e quant'altro, soprattutto a svignarvela perché lì dentro non ci volete stare. Come tutte quante le escape room non posso andare troppo nel dettaglio né mostrarvi troppo perché ragazzi, ripeto, sono giochi che giocate una volta, non li potete rigiocare, quindi si rischia veramente molto facilmente lo spoiler. Vi faccio vedere un po' cosa c'è dentro. Unboxing! La confezione del gioco è bellina, anche il disegno, e vedete c'è questo disegno, se sentite la gatta scusatemi perché tanto se chiudo la porta mi aggola, se la lascio entrare mi aggola uguale, quindi non c'è scampo, vive i gatti. E vedete tipo questi matti che stanno provando, matti, insomma, rinchiusi nel manicomio che stanno provando a scappare e un guardiano che prova a rimetterli dentro. E vi ricordo che nella confezione di fuga dal manicomio ci sono due scatoline che sono le due parti con tutti i casi dentro, come vedete appunto scritto sulla scatola parte 1 e parte 2, edizione italiana a cura della DV Giochi. Apriamo e qua dentro poi c'è la scatola della parte 2, tra l'altro anche i disegni che ci sono sopra sono veramente veleni da morire, mi garberebbe averci dei quadri in casa con dei disegni del genere. Sono sempre rimasto affascinato in tutta la vita dagli ospedali psichiatrici e sono stato uno di quelli che al tempo ha visitato il manicomio di Volterra perché sono posti veramente stupendi, belli, mi garbando a morire queste storie. Parte 1, apriamo la scatolina. Ragazzi non vi posso far vedere un gameplay perché non è rischio spoiler, qualsiasi cosa che vi farò vedere sarà uno spoiler. Ovvio, non di queste perché comunque le carte fino a che sono girate dal lato del numero a faccia all'ingiù non c'è problema. Comunque, fuga dal manicomio, il regolamento, cioè non c'è da far nulla, c'è da leggere le carte, piccolo, facile, veloce e c'è da spiegare veramente poco ed è riassunto in tre pagine, a malapena perché la prima è soltanto quella che c'è scritta appunto il regolamento, quindi è riassunto tutto molto velocemente e vi fa vedere anche il contenuto che c'è dentro, che sono le carte di gioco numerate, voi le dovete mettere così a faccia all'ingiù, partite dalla carta numero 1 e poi sarà la carta stessa a dirvi cosa dovete fare e come procedere. Carte suggerimenti, quelle piccole, che le dovete aprire soltanto se vi bloccate, io non le userei però se proprio vi bloccate e state lì fermi mezz'ora su un problema o su un codice magari da mettere in una porta per risolvere l'enigma, andatele a leggere. Queste carte che sono carte aggiuntive che il gioco ti dirà, lo vedete c'hanno un segnale rosso, di metterle dentro al mazzo normale sostituendo una delle carte che è qui dentro, ma ve lo dirà il gioco quando farlo, bustine ovviamente protettive dove mettere tutte quante le vostre carte e tutti i componenti di gioco, lista dei componenti che non vi faccio vedere perché anche quella è molto a rischio spoiler e poi tutte le buste numerate con numeri delle stanze 202, 203, 204 e quant'altro che questi ve lo dirà il gioco quando prenderle e quando aprirle perché a volte la carta vi dirà prendi la stanza magari 202 ma non aprirla, se invece il gioco vi dice la puoi aprire, puoi aprirla e guardare quello che c'è all'interno. La roba che è all'interno una volta che uscite dalla stanza la dovete rimettere dentro la busta e richiuderla, non la potete portare con voi, se invece sopra c'è il simbolo di una mano che regge un oggetto vuol dire che quell'oggetto lo potete portare via. Schede, segna tempo, vedete l'orario iniziale come tutte le escape room, l'orario finale e poi le caselle da barrare nel caso facciate errori vedete che il tempo va avanti di un minuto quindi qualsiasi errore lo dovete riportare e poi c'è la planimetria, la mappa dell'ospedale psichiatrico del manicomio. Questo è tutto quanto il contenuto delle due scatole, ovviamente quest'altra non l'ho aperta non ve l'ho fatta vedere qua giù dentro nella parte 2 c'è alta roba, voi dovete semplicemente leggere le carte la 1 magari ti dice ok hai preso questa decisione prendi la 3628, poi magari dopo quella ok vai a prendere la 1541 guarda, la cosa che più di tutti mi viene in mente per descrivere questo gioco è una specie di libro game solo organizzato con le carte. Se devo dare un voto complessivo a questo gioco che poi non ha tanto di componentistica all'interno perché ha le buste, le solite buste insomma da tutte le escape room da aprire solo quando te lo dice il gioco non ha qualcosa di a livello di app che ti segue né neanche qualcosa come abbiamo visto quello della cranio creation appunto escape room dove c'era addirittura il decoderino dove andavano inserite che ti dava il tempo andavano pigiate dei pulsanti che ti facevano rallentare il tempo, te lo facevano scattare avanti di vari minuti qui no, qui è tutto un gioco di carte e c'è la mappa di gioco come avete visto è la componentistica quindi la componentistica è poca, non è da dire sufficiente, scarse, eccelsa è poca però per quello che deve fare in un gioco del genere lo fa le escape room ragazzi le avete fatte anche dal vivo, non c'avete mia nulla non è che c'è chissà cosa, magari c'avete una chiave, magari c'avete un oggetto magari c'avete una fotografia o un codice scritto su un pezzo di carta le escape room sono così, non serve nemmeno chissà quanto di materiale la storia è bellina, i casi, vabbè i casi insomma, i capitoletti che dovete seguire sono carini è molto veloce, parte secondo me bene con delle cose semplici poi diventa mano a mano sempre più difficile, ma è normale, è giusto che debba essere così e ci rimanda al carta e penna, cosa che io e mia moglie abbiamo adorato ad esempio di Sherlock Holmes, consulente investigativo dell'Asmode, altro giocone della Madonna perché ti riporta veramente al piacere di prendere un foglio di carta, notarti tutto quanto cioè non c'è un'app che vai a pigiare, ah sì l'app mi aveva detto giusto no, se quella cosa te non l'hai segnata, te la sei persa quindi anche bellino perché ti è in acceso il cervello e soprattutto anche un fatto di investigazione, è veramente molto importante in un titolo del genere li do assolutamente un 7 su 10, meritatissimo vi ricordo, come avete visto poi anche la nota passare nel mezzo del video siamo in collaborazione come sponsor ufficiale del canale col sito BoardGameDiscount se volete acquistare questo gioco e tutte le novità in uscita giochi da tavolo e GDR andate sul sito BoardGameDiscount primo link che trovate, a parte vi faccio sempre dire una nota ma primo link che trovate in descrizione hanno i migliori prezzi che potete trovare sul mercato meglio di loro non ne troverete io ringrazio di cuore la DVGiochi per avermi offerto questa copia per la recensione grazie ragazzi, è veramente un onore è un gioco veramente molto piacevole 7 su 10, meritatissimo e ragazzi ricordatevi il primo link dove acquistarlo più tutti i nostri social a seguire importanti, seguiteli sempre ciao ragazzi, alla prossima